Il progetto del waterfront a Torrette e Ponte Sasso convince residenti e operatori economici. Si è svolto venerdì scorso in positivo l'incontro di presentazione della riqualificazione delle lungomare di Torrette, una delle località turistiche più apprezzate e frequentate dai turisti per la bellissima spiaggia e la sua conformazione. Addio dunque alla classica località che conosciamo, infatti nella zona principale verrà ampliato il parco dei Giardini Tonucci e verrà realizzata una grande piazza che si collegherà direttamente alla spiaggia. Un progetto che si divide in più stralci fino a collegarsi con la località di Ponte Sasso. A spiegarci nel dettaglio i lavori è l'assessore Etienne Lucarelli. Il nuovo progetto affrontato insieme allo studio 3RT che era insieme a noi a presentarlo, dei progettisti nazionali. Prevede la riqualificazione di tutta questa area di Torrette creando una nuova viabilità, quindi il sottopasso non girerà più a sinistra ma girerà direttamente a destra per collegarsi poi con via Miraglio Cappellini andando verso Ponte Sasso e via Buon Incontri per arrivare verso Torrette. Le grandi novità sono appunto una nuova e grande piazza, un nuovo a Gorà dove poter fare tante attività al posto di questo parcheggio. È un nuovo parco appunto che sono i giardini tonucci che saranno degradanti direttamente sul mare, quindi a questo livello non ci sarà più una terrazza a dividere la spiaggia con la parte superiore ma andremo a contatto direttamente sul mare. E poi la riqualificazione totale di via Stelle di mare con una nuova e suggestiva passeggiata dedicata più ai pedoni e meno alle auto anche se le auto dei residenti e coloro che dovranno fare carico e scarico per gli hotel potranno continuare ad entrare. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuovi parcheggi, per questo è stato pensato di usufruire della parte retrostante la ferrovia con dei collegamenti sotterranei che permetteranno di raggiungere la spiaggia più facilmente. Il primo stralcio che partirà fin da subito, quindi inizio lavori nel 2023 con il termine lavori nel 2024 ed il primo stralcio sarà appunto la realizzazione dei giardini tonucci che arriveranno direttamente sul mare e via Stelle di Mare. Facciamo questo per far rimanere i parcheggi e nel frattempo lavoreremo appunto con le proprietà dei terreni dietro alla ferrovia appunto per realizzare nuovi parcheggi là e poi finalmente potremo lavorare anche su questa nuova area parcheggio all'interno per farla diventare una vera piazza. Una riqualificazione tanto attesa da questa realtà che finalmente, seppur a stralci, vedrà il suo compimento. Adesso partiamo con l'esecutivo con l'obiettivo di appaltare entro l'anno perché vogliamo che l'opera, il primo stralcio, sia realizzato entro la primavera del 2024. Ovviamente è un intervento che caratterizzerà la nostra città che dopo il percorso della riqualificazione del centro storico si aggiunge anche il lungomare per renderla, come dicevo, più competitiva, più attraente, più accogliente e sicuramente più bella. Questa è la sfida che ci siamo dati e questi sono gli obiettivi che stiamo perseguendo.